Cucù. Ragazzi, domenica siamo al collegio. Vi aspetto in presidenza. Ciao. Anticipazioni della terza puntata del collegio edizione 8. Tante le novità. Iniziamo con il bacio appassionato tra Carmelina e Rain. Che cosa dirà la mamma VIP Carmen Di Pietro di una figlia molto precoce? Poi in arrivo una nuova collegiale che cambierà le dinamiche tra i ragazzi. Due professori VIP. Barbara Scura X che farà vedere alcune prove di laboratorio e di chimica e Leo Gasman sull'arte del canto e della sceneggiatura. Ci sarà la temuta prova nella quale sarà deciso se i collegiali dovranno proseguire o ritornare a casa. Grazie a tutti.